Due giocatrici di scacchi iraniane hanno gareggiato ai campionati mondiali in corso ad Almaty, in Kazakistan, senza velo, dando seguito all'iniziativa di altri personaggi pubblici iraniani nell'abbandono dell'Ijab. Il velo necessario in base al codice di abbigliamento islamico vigente nel paese è diventato il fulcro dei disordini contro il governo di Teheran. Le proteste a livello nazionale sono scoppiate a settembre dopo la morte della 22enne Masa Amini, arrestata dalla polizia morale per presunta violazione del rigoroso codice di abbigliamento femminile. Da allora oltre 500 persone sono state uccise e 18.000 arrestate.